Parte il servizio di guardia medica per la stagione estiva. Con l'avvio della stagione balneare, è stato avviato da ieri nelle varie località marittime ad alta concentrazione turistica della provincia di Agrigento, il servizio di guardia medica turistica, ASP, per assicurare cure di primo livello a tutti i villeggianti. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento garantirà le prestazioni sanitarie integrative alla normale continuità assistenziale per tutta la stagione estiva. Con un provvedimento a firma del direttore generale dell'ASP, FICAR, sono state stabilite modalità e tempi di attuazione del servizio. Il servizio durerà circa tre mesi fino al prossimo 15 settembre e verrà erogato dalle 8 del mattino fino alle 20, recependo le indicazioni dell'assessorato regionale alla salute in materia di omogeneizzazione del servizio di guardia medica turistica per la stagione estiva 2016. La direzione ASP, di concerto con i responsabili dei singoli distretti sanitari, ha individuato ed attivato i presidi che sono otto in tutta la provincia di Agrigento. Per il distretto di Agrigento l'assistenza ai turisti a stede a San Leone e Porto Empedocle, negli stessi locali dove è allocata la guardia medica convenzionale, rispettivamente in via dei Giardini e via Colombo. Il distretto di Licata può contare su due presidi. Il primo in località Mollarella, è ubicato in corso a Caduti Chiavarello, mentre il secondo a Marina di Palma di Montechiaro, sito al civico 139 del lungomare Todaro. Un presidio di guardia medica Sciacca e uno a Menfi, nel territorio di Ripera, sono attivi due punti a Secca Grande e ad Eraclea Minoa. La nota assessoriale ricorda anche che per i cittadini residenti fuori provincia è previsto il pagamento delle prestazioni in resse dalle guardie mediche turistiche. secondo un tariffario che stabilisce gli importi di 15 euro per le visite ambulatoriali, 25 euro per quelle domiciliari e 5 euro per le prestazioni ripetibili.